Allora, cari amici di Facebook, stasera faremo la serata, la prima serata di questo tour e stiamo rubando i microfoni, il cantante è giustamente donna perché si deve riposare la voce ma noi vi dedicamo il padrino direttamente da Bergio, qui c'è Nando, fortunato, Nando DJ qui in Bergio e parliamo suo fratello Sandro che sta girando in video, vi faremo il padrino per voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti